Bella ragazzi, benvenuti su GTA 5, su PlayStation 5 Ok Io la giocherò in prima persona ragazzi, ve lo dico Vai Ok, credo, poi vediamo Ti vediamo Siamo capi, senza fare i plastiche Non riesci a spooki Una volta M, qui ci stai dentro Cosa va a chierar, vai? Vai a chierar qui Adesso noi in casa Voi in qui In l'interno, vieni In Ihr feet Ok Contatti Apri Detonazione Qua Andiamo 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 Oh no Oh merda Cazzo Sono Trevor adesso Ma non corre Ok Che armi ho? Ah solo questa Madonna santa Ah raga aspettate un attimo Vi abbasso un attimo Impostazioni Audio Allora la musica La musica Facciamo così Gli effetti Così Le voci le lascio Alte Ok via Ci sono Ci sono Ci sono Ci sono Ok Devo sparare? Madonna 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 Devo abituarmi alla visuale Raga Oddio Vediamo come è in terza No dai andiamo in terza Dai ok No Che cazzo è successo Raga T è morto Che è stato? Che cazzo è stato? Devo stare attento Ok Oh merda Cazzo riprendo vita Dopo un po' Vero? Merda no Ma chi è? Ancora tu? Cazzo Ah devo cambiare Ok Cazzo per quello Che sono morto Ok Let's go Let's go Mi sa che devo abbassare un po' La sensibilità Raga Allora impostazioni Comandi Vediamo Secondo raga No ancora un po' Ah è un po' altina Devo dire la verità Per il gioco che è Intendo eh Perché io di solito Gioco veramente Con la mira Altissima Ok Proviamo così Andiamo E' un po' altina E' un po' altina E' un po' altina E' un po' altina Madonna Pensate che sto gioco Era su PS3 Anche Mamma mia Adesso devo guidare Sì Sì Adesso Anche Sì I' un po' altina Miano No! Ecco, sanna al tavolo! Sanna al tavolo! Sanna al tavolo! Voi! Cosa stai la tavolo? Ah! Quanto è la tavolozza?! Alessuno deve parlare! Allora, il Brad va bene, abbiamo bisogno di fuori di qui! Sono venuto! Chi, hai bisogno di fuori di qui! Sto lasciando te, Marky! Andiamo! Dio, non mi faccio... Non mi faccio! Andiamo, andiamo! Nooo! Voi! Voi tutti! Cosa! Hey, vai! Guide, la sua! Oh, che conosco! Adesso devo andare! Chi, non lo sai, non lo sai! Chi, ti deve andare a vicino! Chi, è morto! Noi, che non! Sì, tolci! Sì! Non, che, tolci! madonna ditemi voi ne sotto il video se volete che gioco in terza o in prima persona a me non cambia tanto chissà gta 6 raga come cazzo sarà mamma mia sono proprio curioso grand theft auto 5 il suo figlio è un buon figlio è un buon figlio? un buon figlio ma e cosa per te non si 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 e cosa per te non 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 qui è un buon figlio e un abrigo non 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 da un colpo Ahi viene un colpo ora d'acqua La fortità è una parte vitali del processo Embracalo Qualcuno ti dici doc Ahi No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Madaf***a Oh f***a sei un idiota Oh madonna Ah Un po' a botata ma Ma guarda che sto stronzo Oh 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 No dove dovevo andare Non me lo ricordo più No raga mi sono incastrato Merda Cazzo Eh devo seminare gli sbirri No Volevo attivare Oh no C'era un Ma mi dimentico cavolo abilità cazzo Che dite qua va bene Ah così mi posso abbassare Che belli gli interni Tutta ammaccata raga Ok Vediamo come guido in prima persona E in terza persona Se non sbaglio è questo R1 è il freno a mano Sì ok Oh madonna è difficile Ok Ok no mi... Oh Mi piace di più in prima raga Non so cosa dirvi È troppo figo Eh scusa Eh scusa Qua Ok è un po' maridotta Ma va bene lo stesso Questa è con ciò di Simon Qui Franklin può accettare delle missioni Ok Non so se non mi piace Non lo so Tu sei un racista E io non ti piace E non ti vendereai questo car Non ti vendereai Non ti vendereai Tu mi fai scusare Tu neonazi Ehi sei tutto il stesso Sei disgustante Questo racista mi insulta Mi ha insultato Chi ti chiamare? Chi ti chiamare un n***o? No no Non chiamare nessuno un n***o Ma che dico? Cioè N-word Non è piaciuto Non lo dico Non lo dico E tu devi mantenere bene Perché questo manco qui È un businessman Un multiculturalista Non potrei direi Non potrei direi Ma in serio Probabilmente non è un racista Ma non credo Non è sufficiente Per un caro come questo Cosa 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 Ma Lascia Cosa 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 saliamo sulla nostra auto auto che questo credo riportare la mano a casa questa mia auto mamma non è male o e vai scusate ma devo togliere no come si fa scuola devo togliere la perola musica troppo se si hai una piazza chi ti cercano di imprezzare? sua auntie Denise con tutti questi uccidi ha un uccidio si è crescita, si è crescita come un uccidio no, è sexy sexy? ma? 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 a posto? a posto? a posto? ma? ma? non mi piace perché sono bello magari hai scopo di tanti che hai scopo di tanti hai scopo di tanti o, meglio, magari Tanisha chiamà se non si parla di uccidio se non si parla di uccidio che si parla di uccidio niente ma che cazzo? ma che cazzo? si tratta da negozi dormi su letto per salvare la partita e far avanzare il tempo solo i progressi di gioco in corso momento tranne missione usando il pulsante fotografico sul telefono ok puoi cambiarti d'abito nel tuo guardaroba ok vediamo cosa c'è commentata franklin lamar più 250 ma dov'è che posso cambiarmi scusa oh madonna ma perché ti muovi così oh mi cambio d'abiti vediamo cos'ho felpa nera così ah ma c'ho i completi ok giacca da completi no niente eh occhiali ce li ho no senza senza copricapo felpa giacca pantaloni sono questi scarpe no ok questi camicia e pantaloncini ho anche i pantaloncini non so ma si dai così con la felpa e occhiali copricapo faccio i pantaloncini scarpe camice abiti occhiali copricapo non c'ho tipo accessori cannotte ah posso mettermelo anche così no va bene così ok vai saliamo la partita poi vi saluto questo era il prologo dai ci sta fatemi sapere se vi piace di più in terzo o in prima persona ok io lo giocarei in prima persona perché mi sta più da roleplay proprio da immaggermi come fossi nella vita vera di franklin che cazzo vuole questo e niente noi ci becchiamo un prossimo episodio ragazzi ok bella ciao oh kit kit ah ma ho la vita niente ciao ciao ragazzi